E carissimi amici e amiche faccio seguito all'altro video su Liliane perché dicevo quelle riflessioni sono state fatte prima di quarto grado dicevo chissà quarto grado adesso riprende ma una cosa proprio becero ma una cosa veramente assurda di nuovo di nuovo Sebastiano in studio Serpino collegato ma ma non ce la faccio più ma io lo dico io faccio il cronizzo ma faccio una cronica ma una cosa schifosa ma veramente ancora di nuovo le telefonate cancellate le telefonate cancellate chi è entrato a telefonare a cancellare le telefonate chi è che ha le spingole le telefonate delle 10 e 56 10 e 16 quant'è ancora queste cose qui no nessuno va a foto si dicono le cose a fotocopi si passano le veline trasmissione con trasmissioni così allora il giorno 13 Liliana aveva fatto una lunghissima telefonata di 16 minuti mai fatta in vita sua a Serpino dal contenuto certamente drammatico perché vai avanti e indietro avanti e indietro per la stanza e fai oltre 54 metri ok con il contapassi bene dopodiché probabilmente blocca cancella e blocca Serpino cancella definitivamente e il numero il giorno dopo risulta un numero sconosciuto e poi lei probabilmente che cancella le telefonate di Serpino e poi quella telefonata che Serpino fa le 10 e qualcosa lì la mattina viene dirottata immediatamente sulla segreteria telefonica per quale motivo perché c'è un'applicazione che fa questo per i numeri che non stanno in rubrica ve l'ho detto mille volte ma qui non si fa il costello che so chi è entrato la luce è accesa la luce è accesa chi sa chi è entrata la luce è accesa ma quale luce è accesa ma chi ma quando mai ma quando mai per scarità qui alto alto perché altro lei allora ancora finché voi invitate soprattutto Serpino volendo significare per scarità che quella è l'amante allora voi indirizzate l'idea che Liliana voleva lasciare Sebastiano la storia d'amore una sorta di masochismo compostamentale proprio di un maneggiamento cioè che lei dopo una vita di comodità di agge che andava a fare la casa lì è inutile allora finché si va sempre in quella direzione facciamo spettacolo ma è un triste spettacolo un triste spettacolo volete far credere queste cose ma vedete Aldo perché stava Aldo poi stava Serpino stava Aldo perché chi chiamava Aldo a Serpino quelli il nocciolo della questione che non ci sono messaggi non c'è nessuno sapeva nulla di nulla quelle che ci sono Aldo Serpino quello che sono tutte brevissime telefonate tantissime brevissime che non si conciliano con nessuna storia d'amore perché notoriamente i colloqui d'amore sono colloqui che tendono a durare non 20 secondi 30 40 secondi 10 secondi non è quello allora ecco che anzi c'era pensare peggio c'era pensare perché Aldo o perché altri nomi c'era pensare peggio e che il riferimento non era forse nei confronti di Sebastiano quindi ancora allora invece di allargare che ormai è troppo lato che ha passato tre anni quindi ti aspetta la schiviazione però si sarebbe dovuto togliersi questo prosciutto dagli occhi finché ancora ma ancora si parlano le stesse cose i dubbi i dubbi ancora su un magazzino e quella mattina ma poi si parla della mattina e cosa ha fatto Sebastiano cosa non ha fatto Sebastiano cosa ha fatto Sebastiano cosa non ha fatto Sebastiano quella mattina quando poi si disconosce quello che è la conclusione anche della Cattanea che ormai cristallizza la morte al 2-3 di gennaio quindi voglio dire quella mattina cosa ha fatto Sebastiano quella mattina chi è chi le ha uccise ma c'era andate proprio a uno sbando come 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 una foglia nel mare in tempesta c'è se si certifica che la morte è avvenuta 2-3 di gennaio si dovrebbe dire questa donna da chi è stata rapita perché è stata rapita dove è andata dove è stata tenuta in vita per quale motivo è stata tenuta in vita e perché è stata uccisa magari il 2-3 di gennaio è restituita nei sacchi della spazzatura come monito come messaggio subliminare chiamiamolo così come messaggio ecco quello bisognava chiedere no invece no è quella mattina che ha fatto e ma quello poi dopo la consegna dei coltelli è andata al magazzino è stato tre ore al magazzino a fare i coltelli ah ma è vero non è vero i consumi non i consumi consumi non i consumi poi ha preso la bici con la GoPro ha fatto il giro non ha fatto il giro ha meno messo le immagini non le ha meno messe la cella telefonica la GoPro la GoPro qua la il film sempre le stesse cose anno dopo la sotto è stupida ha consegnato i coltelli non ha consegnato i coltelli ha consegnato i coltelli ha consegnato i coltelli non ha consegnato i coltelli e sono chiacchiere inutili perché tendono a stabilire una verità che non esiste di quel 14 dicembre quando addirittura si dice non è uscito di casa non è uscito di casa poi c'è dopo tanto tempo il video che va fino a piazzare Giobetti no e poi non è lei non è lei ma so c'è una so c'è una so c'è una so c'è una so c'è non è lei e lei non è lei e alte basse alte basse alte basse e lei non è lei e lei non è lei no è lei piazzare Giobetti poi scompare e allora chissà che cosa le hanno fatte no no lei è stata viva fino al 2 3 di gennaio allora che senso a vedere dove andate la coprò la coprò che incredibile che incredibile e dice bene l'ex pm in studio che non ha senso tutte queste chiacchiere non hanno un senso perché si va verso l'ipotesi del suicidio verso la conferma dell'ipotesi del suicidio per meglio dire quindi tutte queste ipotesi la luce accesa le corali uno che ma voi immaginate la scemità voi immaginate no questa questa questi 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 che hanno preso Liliano l'hanno uccisa allora vanno in casa allora entro in casa con le chiavi di Liliano allora invece di mettere magari la casa sotto sopra no tipo per cercare qualcosa quindi tutto sotto sopra gli armati qua e là per vedere se è nascosto qualcosa i codici magari no no non toccano nulla no che entra e cosa fa dice vediamo dove stanno i telefoni vediamo un po ci sono le ultime telefonate a cancelliamo questa cancelliamo questa cancelliamo questa ecco ho cancellato le ultime due tre chiamate e poi mentre fanno questa cosettina qui oh sta diventando una chiamata ah sta diventando una chiamata claudio serpino deviato sulla segreteria telefono ma voi ma voi pensate di parlare proprio con le persone ma veramente come come si fa con i bambini ma una volta si diceva con i bambini di scuola elementare non per i bambini di scuola elementare sono così svegli che 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 si ripetono c'è con i bambini di due anni di un anno un anno e mezzo due anni che raccontate la favoletta sembra la stessa eppure vi direbbero ma che mi racconti sempre le stesse cose com'è possibile pensate uno che si traduce in casa fruttivamente con le chiavi oppure lo stesso sebastiano no che 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 entra in casa dopo aver accoppato la moglie quindi con le chiavi e dice ma adesso però devo cancellare questi queste richiamate deviare in questo momento la telefonata e tutto non toccare niente ecco non tocchiamo niente me ne vado lascio ora la luce accesa e me ne vado oppure qualcuno che invece di cercare altro è una cosa ridicola ecco ridicola quindi allora allora voglio dire no non mi vedo in guardia brevi brevi sulla nullità si fanno dei video brevi allora giustamente è uno spettacolo indecente pure questo scambio fra sterpin e rock a che titolo indecente perché poi è indecente anche sebastiano anche lui perché innanzitutto non dovrebbe andare lì a prestarsi dopo tre anni a fare la commedia soltanto perché poi per strada viene fermato per gli autografi e le foto perché altrimenti per perde di di notorietà anche lui non dovrebbe prestarsi nel rispetto per liliana che nessuno ha non dovrebbe prestarsi andare in televisione perché ormai la cosa è chiusa pace non fa niente poi man mano la gente dimentica non ti ferma più per la strada non fa niente perché altrimenti lui dovrebbe dire ecco qual è il suo vero pensiero quello che diceva all'inizio cioè che il rapporto con sterpin secondo lui era un rapporto chissà di quali cose chissà cosa facevano insieme di a di a fare con lui l'aveva detto all'inizio poi no diceva bene questo forse lui si è illuso e lei si è sottratto quindi sposando implicitamente una vergognosa un indecente una indecente storia d'amore che non è mai esistita e questa è la grave colpa di sebastiano e quindi che cosa volete voi e a che titolo è presente sterpin la cioè a che titolo per fare audience perché pure sterpin è la stessa cosa lo firmano per strada perché nessuno si ricorda che lui è stato campione dell'ultra maratone cosa lo bici 50 anni fa 40 anni fa nessuno si ricorda che lo conoscono per l'amante di liliana se voi andate su 100 persone chi è sterpin amante di liliana mica dicono ah sì il campione che 50 anni fa vinse le medaglie nessuno ricorda che vinse le medaglie in bianco e nero nessuno ricorda niente ricordano come amante di liliana cosa non bello ma ricordano questo perché così viene detto e allora anche lui è presenzialista perché poi per per strada lo fermano e e l'autografo e la foto e queste e queste queste vergogna davvero vergogna davvero vergogna davvero non avete rispetto non avete rispetto per per la resinovic non avete rispetto andate lì solo a fare pubblicità per voi stessi altrimenti non c'è triste non c'è triste uno uno va a dire l'amante cose rinventarsi da qualunque e l'altro troppo comodo a fare il finto tonto non va bene nemmeno quello non si è voluto che si andasse verso la pista economica non va bene la pista economica vogliamo sempre fare le tarantelle ogni settimana e così c'è l'albergo gratuito per due giorni il ristorante la notorietà i giornalisti va bene così per quanto tempo la vogliamo tirare a lunga questa cosa qua per quanto tempo dite novità allora parlate di quelle che sapete davvero perché forse qualcuno qualcosa lo sa ma non lo dirà mai grazie amici miei scusate ma l'idiana rissinovic meritava di più e forse oggi vedendo questo se fosse in vita davvero si suiciderebbe un abbraccio a tutti quanti voi grazie ciao a tutti